Danimarca, i fratelli Bor, due geni ebrei innamorati del pallone. Lo sportivo grosso, palestrato, insieme al secchione gracile con gli occhialetti, nel mondo degli stereotipi non sono mai andati a braccetto. Anzi, ognuno ha sempre cercato di rimarcare i propri punti di forza, a scapito dell'altro. Attività fisica all'aperto con annessa socializzazione da un lato, contro l'intelligenza e tanta bregazione allo studio dall'altro. Difficile immaginare che queste due figure possano essere coesistite in una sola individualità, ancora più singolare se si pensa che sia stato uno dei massimi fisici mai esistito sul pianeta Terra. Un genio in grado di avere prima come amico e poi come rivale niente popò di meno di un certo Albert Einstein, con il quale ebbe una bruciante scambio di battute. Albert inizialmente scrisse che Dio non gioca a dadi con l'universo. Costui li rispose a tono, dicendogli che nemmeno lui, Einstein, poteva permettersi di dire a Dio come doveva giocare. Ma chi è costui in grado di poter parlare in maniera così disinvolta a uno dei massimi maestri della scienza moderna? Se non avete già capito l'identikit, ecco, lui è Niels Bohr, il più grande scienziato che la Danimarca abbia mai avuto. Prebio Nobel per la fisica nel 1922, in virtù dei contributi fondamentali nella comprensione della struttura atomica e nella meccanica quantistica. Non solo fisica, però. Fin da quando era un pergolo, il piccolo Niels si appassionò talmente tanto al pallone con il quale trascorreva gran parte dei pomeriggi nei campetti impolverati e terrosi della Danimarca, insieme a suo fratello Harald. I due erano come gemelli, avevano un'affinità speciale e trascorrevano tutte le ore in compagnia, tanto che la squadra locale di Copenhagen, l'Academisk Bolt Club, decise di tesserarli insieme nel 1905. Se però il fratello Harald riuscì sia a mantenere i due interessi paralleli andando all'Università di Copenhagen, dove studiò matematica a ottenere il Master nel 1999 e la laurea all'anno seguente, grazie alla quale diventò peraltro un altro imminente matematico, sia a proseguire quella da calciatore, togliendosi peraltro diverse soddisfazioni, tra le quali il partecipare ai giochi olimpici di Londra del 1908, dove vinse una medaglia d'argento dopo aver perso per 2-0 la finale contro i padroni di casa, con la nazionale danese. Hans, il fratello maggiore, ben presto invece capì che la strada che avrebbe intrapreso per il resto della sua vita non sarebbe stato il pallone, ma l'amata fisica. Scoprì tutto ciò durante una partita di calcio. In una calda sera di giugno, in una partita che vedeva di fronte la B-Copenhagen contro la rappresentativa internazionale della Germania, una sfida indetta a tutti i costi da un dirigente per testare i migliori talenti locali contro i rivali tedeschi, in modo tale da selezionare poi migliori per la nascente nazionale danese, in verità però Nils era il fratello scarso. Subì un gol dopo appena pochi secondi, e a fine primo tempo la partita si chiuse sull'incredibile risultato di 18-0. Quando alcuni giornalisti a fine primo tempo andarono a intervistarlo, Bohr spiegò con estrema calma che lavorava solo sotto pressione e quel giorno per giunta, visto che si erano create le condizioni perfette, pensò bene di mettersi a fare i calcoli. Scrisse letteralmente un problema matematico impostato sulla grandezza fisica, pensato a come il giocatore di calcio sul palo della sua porta e quando arrivò un tiro da quasi metà campo, lui, Bohr, neanche se ne accorse. Si dice che per questo errore venne escluso dalla nazionale danese. Col calcio finì lì, ma non con la fisica. Nils Bohr si laureò all'Università di Copenhagen nel 1911. Se ne andò prima a Cambridge grazie ad una borsa di studio e poi a Manchester dove portò avanti i suoi calcoli grazie a un finanziamento ricevuto dalla Carlsberg. Nils Bohr dirò contributi fondamentali nella comprensione della struttura atomica e nella meccanica quantistica. Pubblicò il suo modello di struttura atomica. Introdusse l'idea che un elettrone possa cadere da un'orbita di alta energia. Alla base poi delle teorie dei quanti. Nel 1927, al Congresso internazionale dei fisici tenuti a Como in occasione del centenario della morte di Alessandro Volta, Bohr rese pubblico il suo principio di complementarità. Il suo allievo, il più talentuoso, Werner Heisenberg, fu per due anni alla testa del programma nucleare tedesco con l'obiettivo di rifinire la bomba atomica. E pare che ci riuscì. Nel 1922, dopo la vittoria del Nobel, Bohr diventò una star. Nell'ordine, l'elemento borio è stato chiamato proprio così in suo onore. Un asteroide ha preso il nome di 3948 Bohr. Sulla Luna gli sono stati dedicati un cratere di 71 km di diametro e una valle di 80 km di lunghezza. Il suo faccione è mortalato sulla banconota da 500 corone danesi e la Kasberg, dopo avergli pagato una borsa per i suoi studi in Inghilterra, regalò Nils Bohr, una casa dotata di un'abdubatura che gli permetteva di servirci di birra fresca ogni qualvolta ne avesse sentito il bisogno. Due anni prima, il 27 aprile del 1920, Nils era giunto a Berlino su invito di Mats Lenk. Fu lì che colse l'occasione di un incontro a tre, insieme ad Einstein. La visita fu estremamente cordiale. I tre fisici, maggiori al mondo in quel momento, si trovarono a loro agio, confrontando le proprie idee, benché le posizioni di partenza fossero ben distanti. «Poche volte nella vita una persona mi ha dato tanta gioia con la sua sola presenza, come è stato nel suo caso», scrisse Einstein a proposito di Bohr in una lettera appena successiva all'incontro. A volte però il destino è beffardo e le nostre vite sono dotate di un sottile parte ironica, incomprensibili e meno attenti. Alla seduta di Laura di Bohr, il giorno della sua tesi di dottorato, c'erano più appassionati di calcio che fisici. Inoltre, a seguito della nomina come professore a Copenaghen, seguendo le usanze danesi, si presentò a un'udienza pubblica con il re di Danimarca, vestito di tutto punto con indosso taig e guanti bianchi. Il monarca Cristiano X, il cui nome è familiarmente portoghese, con area militarisca e piuttosto rigida, gli disse «Sono davvero felice di incontrare il celebre Bohr, calciatore di pregio della nostra illustra nazionale». A tale asserzione Bohr rispose con un'affermazione di questo genere «Mi spiace, ma temo che vostra maestà si riferisca a mio fratello». Il re non prese molto bene quelle parole, poiché nessuno poteva in quel modo contraddire il sovrano durante una pubblica agienza e Nils Bohr, uno degli uomini che ha stravolto la storia della scienza, nonostante la sua straordinaria statura intellettuale, dovette concedarsi camminando all'indietro alla stregua di un gambero, per rispetto all'etichetta. Nils e Harald erano di religione ebrea, culto trasmesso dalla madre, una ricca parlamentare borghese di origine ebraica. Gli ebrei in Danimarca hanno sempre avuto un ruolo importante nell'economia del paese e non sono mai stati detestati fino agli eccessi come successe nella confinante Germania. Questo lo si deve chiaramente nella volontà popolare di non consegnare i malcapitati al nemico. Ma spieghiamo brevemente come andò. Il 9 aprile 1940 la Danimarca fu invasa dalle truppe tedesche. Data la situazione di forte criticità, lo Stato decise di non opporre resistenza e di collaborare con gli occupanti. Per questa ragione, oltre alla simpatia di Hitler nei confronti della Danimarca, che ben rispecchiava la sua idea di purezza razziale, il paese restò relativamente libero, mantenendo il proprio assetto politico e controllando perfino la censura al suo interno. Questa collaborazione rivalsa il titolo di protettorato modello fino al 1943. Nonostante la collaborazione, lo Stato dandese mantenne un pugno infermo riguardo alla situazione degli ebrei presenti sul territorio, sostenendo a più riprese che non esisteva alcun problema legato agli ebrei. La posizione della Danimarca nei confronti dell'antisemitismo tuttavia si manifestò chiaramente quando un giornale locale pubblicò un articolo a sfondo antisemita. Successivamente, un'associazione criminale diede fuoco ad una sinagoga. A seguito degli eventi, tutti i responsabili, tanto del fatto criminale quanto dell'articolo, vennero accusati e mandati in carcere. La posizione del governo danese fece capire alla Germania nazista che la deportazione degli ebrei danesi non sarebbe stata semplice, tanto più se si considera che all'epoca l'agricoltura danese garantiva il cibo a circa 3 milioni di tedeschi. Nel 1943 la resistenza contro l'occupazione nazista divenne più importante. In questo contesto, Werner Best, che si occupava dell'amministrazione degli affari civili nello Stato danese, propose l'attuazione di un piano di deportazione degli ebrei. La proposta fu ovviamente ben accolta da Adolf Hitler. Fortunatamente, Georg Ferdinand Dachwitz, all'epoca addetto alle relazioni marittime presso il Consolato tedesco di Copenhagen, nonché consigliere di Best, venne a sapere del piano e chiese personalmente aiuto alle autorità svedesi, anche se inizialmente senza successo. La risposta positiva arrivò solo nell'agosto dello stesso anno, dopo che l'allora ministro svedese degli affari esteri si rese conto che il pericolo per gli ebrei danesi era di fatto imminente. Il piano dei nazisti era di attuare la deportazione durante il periodo di Rosh Hashanahn, il nuovo anno ebraico che quell'anno cadeva tra il 29 settembre ed il 1 ottobre, sicuri di trovare le persone nelle loro case. Fortunatamente, grazie all'intervento di Dachwitz, le comunità ebraiche furono avvertite in tempo. Solo poche persone e alcuni malati si fecero trovare in casa, degli altri non c'era traccia. La Svezia, dopo l'esitazione dei mesi precedente, capì la gravità della situazione. Nell'agosto dello stesso anno accettò di ospitare tutti gli ebrei danesi con lo status dei rifugiati. In questo frangente giocò un ruolo importante la dichiarazione fatta da Niels Bohr, ebreo danese Svezia. Al nostro uomo fu proposto di recarsi negli Stati Uniti per partecipare al progetto di costruzione della bomba atomica. Egli rispose che non avrebbe fatto fino a quando la Svezia non avesse accettato di accogliere i rifugiati danesi. La fuga fu resa possibile grazie alla solidarietà non solo dello Stato danese e ovviamente dalla Svezia, ma anche grazie all'aiuto di numerosissimi civili danesi, così come la stessa pulizia locale. I danesi aiutarono i loro compatrioti ebrei a nascondersi in un primo momento e a eludere poi i controlli e le domande dei nazisti e ad accompagnarli al porto dove si sarebbero poi imbarcati per la Svezia. La maggior parte degli ebrei lasciò la danimarca attraverso dei pescherecci per un tragitto che si rivelò spesso molto costoso, a volte il doppio di un normale salario danese dell'epoca. Anche in questo contesto fu fondamentale l'aiuto dei non-ebrei danesi che aiutarono a pagare parte della somma insieme a numerosissimi benefattori locali. Nonostante ciò, non tutti arrivarono in Svezia. Circa 400 ebrei furono deportati nel campo di concentramento di Theresienstadt. In questo frangente le pressioni della Danimarca resero possibile il monitoraggio e l'approvvigionamento dei deportati da parte della croce rossa danese. Circa 50 ebrei morirono durante questo periodo, mentre i restanti furono inviati in Svezia dopo la fine della guerra. Il salvataggio degli ebrei danesi è la dimostrazione che se gli altri stati avessero avuto un maggiore coraggio ed una maggiore coesione statale, la storia moderna sarebbe stata scritta in maniera differente. Un altro esempio per riuscire a spiegarvi meglio quali i rischi in corso dei civili danesi per salvare il loro connazionale è questo. Un giorno un sergente tedesco fermò un camion coperto. Sollevò il telone e vi scoprì all'interno, come disse, rivolgendosi lì dentro i propri uomini, Abramo, Giacobbe e Isacco, tutti in una volta. Pronunciate queste parole, ribassò il telone e fece cenno all'autista di proseguire. In modo analogo si incomportarono altri soldati quando a un posto di blocco fermarono un altro camion carico di fuggiaschi. Lo studente alla guida implorò Comportatevi con umanità, abbiamo dei bambini a bordo. Dopo aver visto i volti spaventati di quei bambini, il cavo pattuglia fece cena allo studente di proseguire. Uno di quei bambini affermerà, anni dopo, a volte penso che non vollero vederci. Non sempre andò così, sia chiaro. Nel distretto di Elsinore, ad esempio, truppe regolari presero parte all'arresto degli ebrei, donne e bambini inclusi. In Elsinore era attivo un funzionario particolarmente zelante, poco disposto a chiudere un occhio. Nella notte fra il 6 e il 7 ottobre del 1943, Hans Juhl, era questo il nome del funzionario in questione, un sergente maggiore delle SS, soprannominato Gestapo Juhl, fece ruzione nella chiesa della cittadina portuale di Gilleleie, dove 85 ebrei si erano nascosti in attesa di un passaggio per la Svezia. Con l'aiuto di soldati della Wehrmacht, Juhl li arrestò tutti e li avviò la deportazione. E questo non fu l'unico episodio in cui le SS si distinsero. Tuttavia, Elsinore, per quanto riguarda l'intervento della Wehrmacht, esercito tedesco, rimase un'eccezione, non la regola. Tra l'altro, esiste un'altra storia curiosa che lega l'ebraismo al calcio danese e corrisponde alla figura di David Boisen, un calciatore professionista danese-israeliano che gioca attualmente come alla sinistra per l'FC Elsinore e che tra il 2010 e il 2011 era considerato come uno dei prospetti più interessanti del calcio danese, compagno, pensate nelle nazionali giovanili, di un certo Christian Eriksen. Boisen è stato anche in prova nei club della Premier League, Liverpool e Chelsea, nonché in Italia nella Regina, ma fu nel 2012 che il suo legame con Israele iniziò ad accendersi, visto che il club Apple Tel Aviv tentò di prendere Boisen in prestito. Piccola cappella, il club ha una politica particolare in quanto tessera giocatori di solo origine ebraica, ma Boisen all'epoca preferì rimanere al Ling B, sua squadra dell'epoca. L'idea di una produ intera israeliana balenò nuovamente a Boisen nel 2017, questa volta il danese decise di accettare le avance del Beiter Gerusalemme, soltanto che per problemi tra le società e la tifoseria, Boisen riuscisse il contratto e ritornò in Scandinavia, stavolta in Svezia. Nel 2019 però ecco di nuovo l'opportunità di tornare in Israeli Premier League. Anche stavolta però si trattarono di fugaci tappe senza impronte, nelle quali il nostro giocatore, prima con il Setskia, Nesta e Zonia e successivamente con l'Apoel Mif Noh Halle Galil non lasciò il segno. Per quanto siamo consci anche noi che la storia di Boisen non si tratta di un racconto all'ultimo grido, abbiamo deciso comunque di raccontarvela, per mettervi in luce un'altra figura in grado di fare d'accollante tra due culture, così apparentemente lontane, ma anche vicine, a livello umano, visto quello che i dianesi fecero per salvare il loro connazionale ebrei. Ebreo come Nils Bohr, primo premio Nobel per la fisica danese. Un genio follemente innamorato anche dello sport più bello del mondo, il calcio.